Salve a tutti, benvenuti in questo video sul canale Ragazzi, quest'oggi andiamo a vedere quali sono le decres che hanno usato i migliori di 100 giocatori che hanno vinto la coppa KC di Master 2, sono arrivati in top 100 e andremo a vedere com'è il metagame appunto attuale di questo gioco ma non solo, abbiamo fatto anche questa cosa per The Lynx e io ho pensato di fare anche questa cosa qui per Master 2 perché secondo me ci sta farlo e avere anche un'idea di come funziona il meta ma comunque vi faccio vedere una cosa, sia la banlist oggi quindi qui velocemente i cambiamenti sono molto utili generalmente comunque qui questa banlist è ottima ragazzi, ottima perché evitiamo carte stun, evitiamo carte tossiche, FtK e roba così quindi secondo me ci sta come banlist, ottima ma torniamo a 9 perché questa banlist in qualche modo è stata fatta dopo i risultati del secondo stage del WCS quindi questo è quello che è uscito e nonostante ciò i match che vedete qua dentro sono tutti giocabili quindi non c'è un problema che voi fate un match che magari avete visto qui e poi non è più giocabile il bello di questa top 100 è che ci sono veramente un sacco di matchy spice infatti un meta che adesso andremo a vedere piano piano che sono sicuro che vi stupirà vi stupirà perché ci sono tanti deck e tante tech card che questi giocatori hanno deciso di prendere in considerazione che sono veramente belli io quando l'ho visto per la prima volta ieri questo top 100 sono rimasto davvero stupito perché sono davvero dei matchy ma molto molto belli che non mi riuscirò da veramente tanto tempo allora intanto prima cosa con congratulazioni a Tazuku che è arrivato primo posto con i Rescue Ace come vedete questa è la sua decklist completa una cosa particolare è che lui gioca a gamma a lui piace questa carta qui in questo meta che è attuale perché permette di negare i matchy che gli avversari fanno di solito blind così istantaneamente o anche le feriture che vi fanno sul fallo o sull'emergenza quindi carta veramente molto versatile all'interno di questo deck l'unico lato negativo è che vi troverete spesso questa carta in mano il driver struttura gamma la struttura del PSI questa carta troverete in mano più volte di quanto volete vederla questa decklist 45 carte funziona molto bene perché ci sono tante carte in monocopia che noi non vogliamo vedere come per esempio le carte Becro Redisque Ace cioè contenere, estinguere, recupero e allerta ma c'è anche il pioppo che non vogliamo vedere perché lo aggiungiamo con il fallo quindi queste carte qui generalmente non vogliamo vederle in mano e 45 carte ci aiutano in questa a risolvere questo problema che il mazzo ha dato la sua natura andiamo avanti questo è l'extra deck lui gioca all'anima perché permette di canterare alcuni link come per esempio la Fenice Furiosa andiamo avanti secondo posto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ok? di attivare la campanella così non vi perdete i nuovi video che escono sul canale che comunque noi facciamo sempre video a tema Yu-Gi-Oh! che sia due links o Master Duel e in più se questi video vi piacciono e vi tornano utili lasciate un bel mi piace qua sotto per supportarci gratis e poi ragazzi potete tranquillamente lasciare un commento qua sotto non preoccupatevi noi leggiamo sempre tutti i vostri commenti e siamo sempre pronti ad aiutarvi se io e mio fratello siamo sempre attivi allora secondo posto Fire King ho visto che la maggior parte delle decklist Fire King giocano Vulcanix e Galonix quindi se uno vuole giocare Fire King nella migliore versione possibile secondo me deve giocare queste due carte all'interno perché aiutano veramente un sacco la consistenza poi anche qui il giocatore ha giocato gamma e una cosa che Fire King ha è la doppia promedia doppia promedia fa sì che strategie come per esempio Cassitira Unicorno non funzionano più bene come prima perché ce ne due quindi l'unicorno potrà levarvi una sola promedia e comunque ora quella strategia lì non è più efficace come prima andiamo avanti con la prima decklist che veramente ragazzi mi ha lasciato a bocca aperta Branded Espia ma non solo non è perché Branded Espia che mi ha lasciato la bocca aperta ma è come è stata costruita questa decklist che mi ha lasciato la bocca aperta perché questa decklist gioca l'erba del devicino e ha 53 carte contrariamente all'idea generale che c'è di giocare l'erba del devicino con un mazzo che ha 60 carte quindi questa decklist mi ha stupito una volta e mi ha stupito due volte perché non gioca handtrap come il max c ora ci sa che il banded espia non gioca handtrap perché ci sono troppe carte e non c'è realmente spazio per poter inserire le handtrap e quindi gioca un approccio a board breaker ma il banded espia di solito gioca il max c cosa che questa decklist non fa a di poco sensazionale è veramente una cosa che mi ha stupito molto e poi come vedete il suo approccio board breaker così c'è nel giocale goccele proibite i veli match e la fortissima triple tactic thrust all'interno del max banded espia questa carta è veramente una roba assurda vi permette di cercare qualsiasi mazzo qualsiasi carta all'interno del deck letteralmente faccio vedere l'ex deck che è questo qui gioca il peda pianta alcuni maxi banded espia lo giocano alcuni no questo di qui lo gioca e io direi di andare avanti tra l'altro la cima è fatta che c'è jimmy puppet lock ma comunque ragazzi non è una carta bandita quindi fin quando non è bandita noi la giochiamo andiamo avanti con altre decklist perché ci sono altri maxi spicy che mi hanno assoluto la bocca aperta anzi qui sottolineo il fatto che alcuni giocatori hanno scelto di giocare il photon lord all'interno del del fire king perché è un'ottima carta che voi potete fare di turno 1 usando appunto il re del fuoco che voi evocate specialmente sul campo dato che sono massi di livello 8 a posto della promedia usa questa carta qui andiamo avanti come vi ho detto prima questa questa coppa khc mi è piaciuta a livello dei maxi che ci sono giocati davvero molto molto divertenti abbiamo qui altri altri race race altri fire king abbiamo il primo marzo di element senza le carte orus cioè ragazzi cosa sta succedendo questa coppa khc è stata davvero tutta tutta giocata con maxi non convenzionali abbiamo infatti tir la mente che gioca a carte della distruzione questa carta qui sappiamo già il motivo perché viene accusata e se non lo sapete già ve lo spiego se l'avversario fa maxi c e voi non avete come negarlo prendete la maxi challenge evocate 10 volte per esempio 12, 13, 15 se non di più volte e l'avversario pescherà 10 carte se non di più usate carte della distruzione e l'avversario perde 10 carte più le 5 che ha in mano generalmente è questa l'idea di spaccare più carte possibili all'avversario quando l'avversario perde un numero così elevato di carte dal suo deck vi assicuro che è molto difficile recuperare la situazione in più questo element stesso ha preso un approccio board breaker pure lui infatti questo giocatore qua ha usato la super polimizzazione per poter evocare il golem il mister il garura o il fango drago generalmente questa carta qui aiuta per spaccare i comuni handboard che il match of fire king tende a mettere perché vuole un mostro cberso più un mostro link generico qualsiasi andiamo avanti questo deck ci abbiamo già detto tutto quello che c'è da dire vi faccio vedere qui l'extra deck perché ci sono altri match che vi voglio far vedere e questo è uno tra quelli allora ne vedremo un paio di match così quest'oggi questo match qui è un spam sincro 60 carte un pile da 60 carte davvero fenomenale fenomenale ragazzi già ve lo dico questo match che vi faccio vedere questo giocatore ha usato sia la versione che a sinistra che la versione che a destra come vedete durante la sua scalata nella fase 2 e questa carta qui questo match qui gioca carte di distruzione sappiamo che su match duel le strategie sincro sono deboli al max c soprattutto un match che gioca 55 o 60 carte dipende la versione in cui lo giocate può non avere sempre in mano la risposta per negare il match c nonostante gioca gamma feritura nonostante gioca colled by the grave e cross out nonostante la quantità di queste carte non sempre si può fare e quindi usare le nostre carte sincro che appunto è la nostra strategia per spammare mostri sul campo evocare sincro dopodiché andare a pescare questa carta qui può rivelarsi in un auto win perché l'avversario perde tutta la sana pesca altre tante carte se l'avversario rimane con 0 carte nel deck perde la partita per deck out vediamo qui due versioni versione convenzionale con max c e la versione 60 carte senza max c ed è bello perché già vediamo vari deck che non giocano in max c in questa fase 2 sarà forse dovuto perché si giocava questa carta qui o meglio max che giocano questa carta qui non si sa ma su me è un ottimo modo non convenzionale per giocare questo gioco abbiamo qui le prime deck list purely purely che nonostante ha preso la balance stamattina come vi ho detto prima giova dal fatto che riceve un altro geus questo qui è il max che può spammare geus più facilmente rispetto a tutti gli altri match poi qui abbiamo snake eye snake eye è puro questa volta ed è forse uno dei pochi giocatori che l'ha giocato puro senza le carte fire king anche se comunque lui poi ha alternato quest'altro deck a sinistra quindi li ha usati entrambi ma questa è una delle poche deck list di snake eye puro che vedremo oggi con un approccio con alcune carte board break infatti abbiamo spolverino abbiamo droplet che ci aiutano a fare il show abbiamo anche tripe tattiche comunque andiamo avanti il prossimo deck spicy abbiamo un thunder drago con 60 carte anche qui non si gioca max c non si gioca a frittura non si gioca con le di grave non si gioca il depennatore non si gioca tutte queste carte un approccio che questo deck ha preso è quello del board break vi faccio vedere anche sotto un'altra versione sempre nella top 100 di questo mazzo thunder drago con la necro face snake eye pacchetto ti element pacchetto orus e abbiamo anche qui come nell'ex deck vi faccio vedere abbiamo il lock del colossus quindi se la lasciare fa il max c giochiamo perché possiamo fare questa carta ma vi assicuro che più avanti c'è una versione sempre così senza il colossus infatti io direi di farvelo vedere anche subito eccolo qui questa volta la versione con il jet synchro carte risiccio e infatti come dicevo prima non ha il colossus quindi sono davvero versioni molto particolari ora riteniamo su perché questa carta qui non gioca sales ban che sarebbe questa carta qua che è una ultra rara che si può ottenere solo in un box vecchio o nel master pack quindi dubito che qualche giocatore abbia il 3x di questa carta se non volete gastarla perché è ur potete unire entrambe le decklist e dare vita un mazzo del genere e di andare avanti abbiamo qui il ghost trick purely quindi per chi vuole giocare questa versione alternativa del purely una decklist gioca gamma gioca le carte ghost trick 1, 2 e 3 come ho detto prima questo mazzo anche questa versione con il ghost trick gioca dal fatto che lo ghost viene messo a 2 e al 50esimo posto abbiamo il deck xad per eccellenza uno dei maxi più difficili di sempre da giocare perché ovviamente è complesso mazzo con l'endimio questo mazzo qui è l'endimio ok ragazzi già ve lo dico e pendurum questa carta qui è la carta con il testo più lungo dell'intero gioco sia perché ha l'effetto pendurum sia perché ha il suo effetto da mostro è un mazzo così veramente complesso ma soprattutto è un mazzo davvero chand perché non gioca handtrap non gioca maxi c non le ha mai giocate dal inizio del gioco questo qui è un deck che ha almeno due anni se non di più cioè questo mazzo letteralmente è da quando è uscito questo gioco che è qui non ha avuto aggiornamenti non ha avuto carte nuove abbiamo cambiato la cosina nell'exadeck perché l'unica cosa che è successa in tutto questo tempo è appunto qualche variante qui all'interno dell'exadeck non ha ricevuto supporti nel main deck e carte nuove abbiamo prometea e questa carta qui che sarebbe superare il pendulum questa carta ha fatto sì che le le sedece pendulum ora sono uscite allo scoperto maggiormente quindi vedremo altre deck list pendulum quest'oggi e vi faccio vedere come il mazzo Endymion è riuscito a piazzarsi al cinquantunesimo posto grazie a questa sua strategia quindi davvero un mazzo molto molto bello anzi è un mazzo che il pendulum che io avevo iniziato a costruire ma che poi non lo avevo fatto l'avevo tralassato un po' ma ora mi sa che coglierò l'occasione per finire di montare quel deck abbiamo poi Sky Striker con il Colosseo che verrà bandito grazie grazie meno male che il Colosseo viene bandito che questa carta veramente lo odiavo con tutta me stesso comunque Sky Striker decklist veramente di controllo così si sa Sky Striker tende a controllare la board ha ricevuto questo supporto nell'ultimo box e questo giocatore qui è riuscito a piazzarsi con questa decklist molto consistente e divertente di Sky Striker che sono sicuro che a molti di voi piacerà abbiamo poi il 57esimo posto Balmonica anche qui il mazzo che è riuscito con l'ultimo box un mazzo che non era niente di che e invece il Balmonica ha stupito tutti quanti me compreso perché è riuscito a piazzarsi nella top 100 un mazzo che è partito da da underdog possiamo dire un mazzo che tra le nuove carte che erano uscite è quello che si pensava fosse più scasso e invece è riuscito a piazzarsi bene certo usa strategie stun come frattura dimensionale colosseo summon limit ma comunque ragazzi la strategia del mazzo è questa ed è questa la strategia che ha permesso al mazzo di piazzarsi bene abbiamo qui un altro mazzo 60 carte senza max c infernobili infernobili voi micanko qui vi faccio vedere l'exa deck direi di andare avanti che ci sono veramente altri match flow on the rise piacere nella top 60 con il sifter appunto si sa questo qui è il sifter deck per eccellenza abbiamo un'altra deck di serbranded questa volta col max c io direi di andare a scorrere a vedere invece i matchi nuovi che ci sono matt mac classica classica deck questo non c'è molto da dire ecco qui l'altra strategia pendurum che viene messa nel meta è il mazzo byland appunto ha ricevuto come ho detto prima questa carta come supporto in un ultimo pacchetto e questa carta qui che è uscita dalla banlist è veramente fortina ok questa carta qui che prima era bandita ora è stata messa a 3 quindi si può giocare tranquillamente ha due copie all'interno di questo deck qui vi faccio vedere molto divertente soprattutto perché le strategie pendurum sono strategie che si vedono giocate poco dai giocatori stesso quindi è bello vedere strategie come queste che penso che da quando si do snack i pendurum si vedono veramente veramente poco ecco vedere strategie così che escono nel meta sono veramente belle comunque ragazzi spero che queste decklist vi stiano ispirando nel giocare qualche strategia nuova qualche match nuovo o vi stiano ispirando nel migliorare il vostro deck ecco qui il classico matcho stanne che non mi so farmerò neanche un secondo su quel deck perché non mi piace minimamente come funziona ma vabbè gusti sono gusti abbiamo qui un altro spread tribigale ecco stavo dicendo che appunto spero che questi questi match vi stiano ispirando nel giocare qualcosa di nuovo qualcosa di diverso o magari semplicemente a voler provare qualcosa di nuovo all'interno della vostra decklist magari volete giocare qualche altra carta all'interno del fire king che voi non giocate o qualche cosa nel race quest nel frattempo siamo arrivati nella posizione finale e tutto ciò grazie per essere stati con noi fino alla fine del video noi ci salutiamo qui grazie ancora una volta del vostro supporto e noi ci vediamo in un nuovo video sempre qui sul canale ciao a tutti